Lucrezia Lante della Rovara, intanto benvenuta su Spettacolo Mania, anzi ben trovata, come stai? Benissimo, un po' raffreddata, però insomma combattiamo. Combattiamo, siamo forti. Allora, Laura, la fortuna di Laura, lo inquadriamo lì, tu sei la protagonista di questo film del ciclo, purché finisca bene, allora Laura è un personaggio, cioè un personaggio molto particolare, raccontaci questa donna, posso permettermi anche un po' fuori di testa? È totalmente fuori di testa, è una simpatica, simpaticissima bugiarda, una meravigliosa bugiarda, è un personaggio molto divertente di quelle, ne conosco tante nella vita, di persone così, ovvero sia sono quelle persone che hanno una falla, che hanno un dolore, che hanno qualcosa che non hanno risolto e quindi trovano questo sistema folle per me, però cinematograficamente funziona molto bene, che è quello di raccontarsi, autoraccontarsi delle bugie. Però è anche in maniera intelligente, è anche in maniera veloce e pespicace, e quindi Laura è bravissima a dire queste bugie, ne dice una dietro l'altra, si autoinganna, inganna sua figlia, insomma costruisce un castello di menzogne, e che però poi a un certo punto questo castello si sgretolerà, ma sarà anche la sua fortuna, perché poi, insomma le bugie come si dice? Sono le gambe corte, e quindi ci sarà anche del dolore, dell'infelicità, e invece arrivare poi a una sua verità, arrivare a raccontarsi, a conoscere Emanuele Agrimalda e Andrea Pennacchi, secondo me i due personaggi chiave di questa commedia, aiuteranno questo personaggio ad entrare in contatto con una sua parte più autentica, e quindi più sana, e quindi più bella, e quindi ad avere una trasformazione. Diciamo anche che sei, che Laura è una redatrice di successo, che ovviamente parte del suo successo è nella sua mente, però insomma una parte anche reale, e però ecco ha la fortuna, come dicevi te, di avere una colf, interpretata da Emanuele Agrimalda, che forse, a parte che le dà una mano nel momento, insomma di difficoltà, e la riporta alla realtà. Sì, appunto Laura è una redatrice di interni, quindi è una che vive arredando le case di queste signore ricche della provincia, ha tantissimo gusto, vive al di sopra delle sue possibilità, e poi a un certo punto verrà aiutata dalla sua donna delle pulizie, che è interpretata da Emanuele Agrimalda, una meravigliosa colf, molto simpatica, molto creativa, che entrerà nella sua vita e la scombusolerà, e quindi questa è una cosa divertente, una specie di cenerento dal contrario, cioè una che parte su e poi si capovolge completamente. Tra l'altro Laura ha una sveglia bellissima, come dice la sveglia, tu sei un uragano, tu sei forte, dovrebbe averla un po' tutta. Dunque Laura si sveglia, sì, perché si deve convincere di, se sei forte, se sei bella, sei un uragano, sei simpaticissima, sei una bomba, sei... perché si deve comunque autoconvincere, secondo me, di quello che lei ha. Piccola premessa, io non ho visto il film, l'abbiamo girato sei mesi fa e non vedo l'ora di vederlo. Ok, fide, vabbè, te la ricorderai nella scena alla sveglia. Senti, tanti film impegnati, tanto teatro, che so che è il tuo grande amore, però ecco, ogni tanto un po' di leggerezza ci vuole, come questo ciclo, purché finisca bene, che ha sempre il lieto fine. No, sono una fan, io, della leggerezza, del divertimento e, anzi, in questi anni, soprattutto in televisione, ho interpretato dei ruoli molto drammatici e sono molto contenta di interpretare un ruolo così leggero, pazzo, divertente, con una personalità così sbirvola e squilibrata. Quindi spero che tutto questo abbia anche un seguito. Posso osare chiederti se ti sei ispirata un po' a tua madre Marina, per il personaggio? No, non c'entra niente mia madre, no, 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 però... Nell'eccentricità? Nell'eccentricità, vabbè, insomma, sì, un pizzico di mia madre, forse non manca, forse più nei costumi, ecco, cioè, Monica Celeste, la costumista, mi ha costruito un personaggio anche con i costumi molto interessante, molto sopra le righe, molto geometrico, molto bianco e nero, e questo ha aiutato, perché poi noi attori avere anche, no, il costume che ti porta a fare un personaggio è un bellissimo passaggio e con Monica c'è stato un bellissimo lavoro. No, però conosco tante persone che hanno questa doppia personalità. Mia madre aveva altri problemi. Senti, sei tornata a teatro, sei a teatro, parli di donne, giusto? Conti di donne. Allora, sono a teatro, sono, insomma, anche dopo il Covid la stagione teatrale è diventata un po' groviera, quindi riprendo, ogni tanto rifaccio uno spettacolo che si chiama Malamore, che era un testo sulle donne di Concitta De Gregorio, poi rifaccio L'uomo dal fiore in bocca con la regia di Francesco Zecca e quest'inverno debuterò con uno spettacolo bellissimo, con un testo meraviglioso che si chiama La Divina Sara di Emanue Smith, con Stefano Santospago, con la regia di Daniele Salvo ed è la storia di Sara Bernard, vecchissima, moribonda, che appunto non vuole chiudere gli occhi, non vuole addormentarsi perché teme che su questo mondo non lo riaprirà più. E l'unica maniera per non cedere a questo ricatto della vita è quello di continuare a recitare. E quindi sta lì che si autoimpone e impone al suo servo, cameriere, come si dice, assistente di rifare tutti i ruoli della sua vita in maniera ossessiva. E quindi è un personaggio tragicomico, anche questo ha una sua leggerezza, ha un suo divertimento che non vedo l'ora di fare. Grazie, ti verremo ad applaudire. Grazie mille. Grazie, buona giornata.